Oggi parliamo del rapporto tra amore e consapevolezza. È una questione delicata, perché noi tendiamo a dare un estremo valore all'amore senza renderci conto di quanto possa essere potente da un lato e dannoso dall'altro, senza la consapevolezza. Ora, pensiamo, e visto che parliamo di amore, pensiamo alla freccia di cupido che coglie il cuore dell'amato e dell'amata. E prova a immaginare che questa freccia, invece di andare nel cuore dell'amato e dell'amata, sia una freccia infuocata che va in un prato secco. E questo crea un incendio. Il potere che ha l'amore di per sé non è necessariamente buono. Il potere che ha l'amore deve essere guidato dalla consapevolezza. Cioè, so quello che sto facendo. Non c'è mai una separazione tra il mio sentimento di amore e dove lo dirigo e qual è la visione del mondo che io ho. Se, per esempio, io credo che per il tuo bene, dico questo per il tuo bene, se non fai così non mi vuoi bene. E pensiamo a come come l'amore usato senza la consapevolezza possa essere distruttivo. L'amore, quando viene utilizzato come manipolazione, lo conosciamo un po' tutti, perché molto spesso le nostre madri, i nostri genitori se mi vuoi bene devi fare così. Ma allora vuol dire che non mi vuoi bene. È molto importante quanto cresce, quanto più cresce la nostra connessione con l'amore, la nostra comprensione della vera natura dell'amore che nasca la consapevolezza di che cosa noi crediamo, di chi noi crediamo di essere, di cosa crediamo di fare, di come crediamo che il mondo sia. Noi siamo pieni di presupposti impliciti dei quali non ce ne rendiamo conto. Noi siamo pieni di condizionamenti dei quali non ce ne rendiamo conto. E crediamo che l'amore, essere di cuore, risolva il problema. Non sei di cuore se la tua mente è confusa. Non sei di cuore se la tua mente crede delle cose che sono non funzionali, non coerenti con il mondo nel quale stai vivendo. È estremamente importante che ci rendiamo conto che essere di cuore vuol dire avere la mente pulita, la mente chiara che vuol dire conoscere chi sei e quello che stai facendo, che vuol dire accorgerti di che cosa stai facendo. Quindi sediamo importanza all'amore. Dobbiamo dare altrettanta importanza alla consapevolezza che è che so quello che sto facendo, che è mi osservo osservare, che sto attenta a come sto usando a chi dentro di me è innamorato, di chi dentro di me usa l'amore. se lo uso per potere, se lo uso per manipolazione oppure se semplicemente svolga dall'essere. all'amore.